Ripresa da Matteo Salvini e rilanciata sui social una notizia pubblicata dal nostro quotidiano online, il giornale del Molise. Una piccola grande soddisfazione per il gruppo editoriale di Telemolise. La vicenda postata su Facebook e su Instagram del leader della Lega Salvini è quella di un provvidenziale intervento effettuato dai carabinieri della compagnia di Isernia che durante il loro turno di servizio hanno salvato la vita ad un uomo. Colto da un malore mentre era alla guida del suo furgone, l'uomo marciava con un'andatura strana tanto da attirare immediatamente l'attenzione di una pattuglia che si trovava all'altezza del bivio per guasto. I carabinieri hanno subito raggiunto il mezzo e constatato che l'uomo alla guida era in condizioni di salute precaria causate da un recente intervento al cuore a cui era stato sottoposto. A questo punto i militari, intuita la gravità della situazione, hanno chiamato il 118 e provveduto a dargli i primi soccorsi utili per salvargli la vita. L'uomo è stato infine trasportato al pronto soccorso di Isernia dove gli è stato riscontrato un serio problema al cuore. Provvidenziale dunque l'immediato intervento dei militari di Isernia che ha scongiurato il peggio. L'uomo e i familiari, tutti di Campobasso, hanno ringraziato l'arma dei carabinieri per il professionale intervento fatto proprio come ha fatto Matteo Salvini attraverso il suo post in cui li ringrazia per essere vicini alle persone in difficoltà.